Oggi le aziende operano in un panorama dinamico che deve far fronte a nuovi standard ambientali, tempi di produzione sempre più brevi e target di affidabilità dei processi più elevati. In Schneider Electric siamo pronti a supportarvi in questa sfida, adottando un approccio più responsabile. Il nuovo armadio da pavimento Panel Set SFN è realizzato con acciaio sostenibile ottenuto da materie prime riciclate e fonti di energia rinnovabile. Questo processo innovativo aiuta a ridurre le emissioni di CO2, pur mantenendo inalterate le proprietà meccaniche. I nostri contenitori possono adattarsi a qualsiasi spazio e sono completamente personalizzabili. Panel Set SFN ha una struttura montata e un kit che rende facile il montaggio degli accessori. Le nuove unità di raffreddamento Climasis si avvinano perfettamente a Panel Set SFN. Entrambi i prodotti sono stati progettati per ottimizzare il processo di installazione, offrendo robustezza di alto livello per aiutare a proteggere in modo efficiente le apparecchiature elettriche. Progettato per il Retrofit, la nostra soluzione aiuta a garantire un'integrazione perfetta, senza richiedere modifiche significative o risorse aggiuntive. Quando si parla di operatività, i dati sono fondamentali per prendere decisioni rapide ed efficienti. Grazie alla connettività nativa, l'unità di raffreddamento Climasis fornisce un monitoraggio sia locale che remoto, offrendo accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 agli stati, ai dati e agli allarmi. Garantisce prestazioni ottimali dei quadri di automazione e controllo. Questo approccio consente inoltre interventi tempestivi per la manutenzione correttiva e preventiva. Noi di Schneider Electric siamo pionieri nell'introduzione di nuove tecnologie sul mercato. Ci impegniamo a fornire soluzioni più sostenibili, affidabili, efficienti e flessibili, per garantire che le infrastrutture critiche siano pronte per il futuro.